Sono 41 i migranti provenienti da Siria, Sierra Leone, Gambia, Guinea-Bissau, arrivati nella tarda mattinata di oggi al porto di Salerno, a bordo della Soliday Rex Open Arms, nonché la più grande nave ONG finora messa in campo in mare per salvare i migranti nel Mediterraneo. Più della metà di quelli a bordo, tutti uomini, sono minori, 28 per la precisione. Si tratta del 37esimo sbarco per la città di Salerno, il quinto dall'inizio dell'anno. Il prefetto Francesco Esposito ha già annunciato che tutti i migranti rimarranno in Campania. Sappiamo che hanno avuto un viaggio piuttosto complicato e che sono stati salvati a bordo di un gommone che era stracarico e quindi immaginiamo che comunque ci saranno diverse persone che si presenteranno a noi in condizioni di sofferenza e alcuni anche con traumi che poi valuteremo insieme ai sanitari di che entità sono e che tipo di cure ricedono, ricederanno. Sopra i 16 anni li possiamo sistemare all'interno dei CAS che sono gestiti dalle prefetture, al di sotto dei 16 anni invece vanno inseriti in altri circuiti o nel SAI o nei centri che sono attivati dai comuni sul territorio della nostra provincia ma non solo, anche naturalmente su quello delle altre province campane.